Ciao a tutti e benvenuti, oggi sto con la mia telecamera che stanno oggi, per farvi capire stamattina ho fatto il mio letto, spesso spingo la luce, poi ho fatto il letto dei miei genitori, per farvi capire questa è la stanza dei miei genitori, e poi ci sono io, ciao, non si vede niente, poi questo è il mio giardinetto, si che poi laverò la roba stessa, sempre se è asciutta, adesso poi vi faccio vedere cosa ho fatto, si perché ve lo stessi chiedendo, avevo un appuntamento alle 10 ma niente non c'è, perché praticamente manca per vari motivi, e adesso vi racconto, e poi qua ho preparato già la roba per apparecchiare dopo, ho lavato le tazzine che le ho lavato tutte le qua, poi ho buttato la spazzatura e l'approccio, e ora avevo in mente di andarmi a cambiare, si, ciao mamma, un buon registro perché non volevo più che altro, non volevo farla arrabbiare, quindi, e oltre a quello, si, adesso mi metterò un po' a giocare con il telefono, per vedere un po' come passare il tempo, o se mai io e mia madre usciamo da casa, guardate un po' cosa ho fatto, qua c'è Valeria, e qua ci sono io, si, ho lo smalto tutto, ma il giocchietto sarà meglio che me lo tolgo, e oltre a quello niente, allora, se vi vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale, se volete unirvi all'AsaFamily, e noi ci vediamo domani con un uomoissimo vlog, ciao ciao